Musica Ben ritrovati con l'informazione, un giornale carico di Cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Lucia a Padova per la caduta di materiale lapideo da un edificio storico del XII secolo. Controllato il palazzo è stato fatto a transennare l'area sottostante a cura degli operai del comune. Ora la situazione rimane sotto controllo. E al termine di una prolungata attività d'indagine con un intervento risolutivo effettuato a Ponte Longo in provincia di Padova, i carabinieri della stazione di Casalserugo hanno arrestato per il reato di estorsione aggravata un cittadino albanese di 41 anni noto alla giustizia. Si tratta di Doi Edward, da tempo residente a Ponte Longo che da diverse settimane era nel mirino degli inquirenti. La vicenda ha avuto inizio quando un operaio di 35 anni di piove di sacco una settimana fa si era presentato in forte stato di agitazione negli uffici dei carabinieri di Casalserugo, denunciando di essere vittima di pressanti richieste di denaro da parte dello spacciatore dal quale da anni era solito rifornirsi di cocaina. L'operaio che si è appunto autodenunciato era sempre riuscito a far fronte ai pagamenti della sostanza stupefacente quando quest'ultimo mese aveva maturato con il suo pusher un debito di 3.400 euro che non riusciva più a pagare. Di qui la minaccia di volerlo bruciare vivo. La vittima era riuscita a racimolare la somma di 600 euro accettando di incontrare l'indagato come da lui richiesto per consegnargli il denaro. L'attività di costante monitoraggio della vittima finalizzata conoscere i movimenti consentiva ai militari di seguirlo anche in occasione dell'incontro fissato dall'indagato. Dopo l'arresto di Nindoi l'uomo è stato consegnato agli arresti. E la polizia locale di Padova arresta due spacciatori con una ingente quantità di droga giudicati per direttissima e condannati rispettivamente ad un anno e 1.200 euro di multa e 8 mesi di carcere e 800 euro di multa. A fare questa operazione gli agenti del nucleo antidroga impegnati in servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona stazione che hanno notato uno strano andirivieni proprio in via Eremitano quando due ragazze identificate rispettivamente in AA di 22 anni e WN di anni 30 entrambe provenienti da Pordenone che stazionavano a circa 20 metri dal locale African Soul Restaurant praticamente hanno preso contatti con due extracomunitari di origine nigeriana che poi sono stati arrestati. Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Bassano del Grappa hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza nell'ambito dell'operazione denominato Lucky Flats. Il sequestro ha consentito il sequestro cautelare di ben 320 mila euro di valore e riguardato i conti correnti bancari ed immobili di conducibili ad un 48enne di Bassano del Grappa e ad un 52enne di Riese Pio X coinvolti nella gestione di fatto di una società a responsabilità limitata e di tre ditte individuali usate come delle cartiere. Altra notte di spaccate, quella appena trascorsa in città qui a Padova che ormai è sempre più in balia ai balordi. Ad essere colpito questa volta è stato il noto ristorante Antico Brollo in Corso Milano, il locale di proprietà di Mario Di Natale che presiede anche la squadra piloti di Formula 1. Il colpo sarebbe fallito perché i ladri sono stati disturbati ed è scattato l'allarme collegato con le guardie giurate. È stato infronto un portone della veranda e l'ingresso al ristorante, anche qui danni, ma fortunatamente nulla è stato asportato. Vediamo. Siamo a oltre 30 sfondamenti di vetrine in città. Boia, non sapevo mica che erano già stati così tanti. Bel colpo, porca miseria. Beh, devo dire che è una roba che comincia a preoccupare, 32 colpi sono tanti. Mi meraviglio come mai fino ad ora non ci siamo ancora riusciti a beccare nessuno perché 32, ripeto, sono una roba esagerata. Da noi sono arrivati stanotte, che era l'una e mezza, hanno forzato prima la porta della veranda, poi hanno tentato di sfondare la porta del ristorante, ma essendo ben fissata e protetta non sono riusciti. Nel frattempo è scattato l'allarme, hanno fatto qualche danno alla porta e nel frattempo è scattato l'allarme e prontamente è arrivata Padova a controlli per cui sono stati costretti a fuggire. Tutto sommato è andata meglio degli altri. Tutto sommato è andata meglio, ma non capisco questa gente che cosa cercano nei locali. Sono pochi intelligenti perché non hanno capito che i soldi non ci sono perché la gente paga l'80% in carta di credito, uno, quindi l'incasso non c'è. Quindi pochi spiccioli che ci sono, non li lasciamo lì aspettando loro che li vengono a prendere. Li sistemiamo già prima, noi abbiamo i tubi diretti con le banche, quindi non c'è nessun problema, quindi non sono intelligenti. Tanti danni purtroppo quello sì. Sì, tanti danni sì perché è una porta rotta, l'altra forzata, vetri infrontumati, quando si è alla fine i conti sono alti. E poi il fastidio della violazione. E poi il fastidio della violazione e la tranquillità che ti viene a mancare perché finché non ti capita, leggi però non pensi che non sia mai per te. Quando ti capita a te, alla notte ti viene in mente, quando esci dal locale ti metti il casco perché se c'è uno che ti dà una botta almeno ti salvi la testa e compagnia bella. Una città quindi sotto scacco. In questo momento direi proprio di sì, nonostante che le forze dell'ordine siano bravissime perché si danno un da fare che mai, però mi sa che ci sono più delinquenti che poliziotti, quindi è un po' duro da gestire. E dal prossimo lunedì fino al 14 dicembre sarà possibile richiedere il contributo per l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza nei negozi. Nella giornata di oggi la Giunta ha approvato il progetto Negozi Sicuri stanziando una somma di 200 mila euro. Il progetto concordato con le associazioni di categoria dopo le ripetute spaccate notturne è rivolto alle attività economiche qualificate come micro o piccola impresa che vogliano migliorare la sicurezza passiva nei propri negozi con l'installazione di sistemi di videoallarme, antirapina e antiintrusione, blindature serrande e saracinesche, vetri, vetrine e porte antisfondamento, inferiate, porte blindate e impianti esterni aggiuntivi di illuminazione. Il contributo potrà coprire il 50% della spesa sostenuta con un minimo di 500 euro ed un massimo di 2000 euro, cifre al netto dell'IVA. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Repubblica a Monselice per l'incendio di un'auto. Il conducente mentre correva ha visto che qualcosa non andava, è sceso dall'auto e ha visto il fumo provenire dal cofano. I pompieri accorsi da este con due mezzi hanno spento l'incendio della C3 andata purtroppo daleggiata dalle fiamme. La notte scorsa, a mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Flacco ad Abano Terme all'interno della valanderia di un albergo per l'incendio di una asciugatrice. Evacuati i 45 ospiti della struttura, nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri intervenuti dal locale di Sacamento e da Padova con tre squadre hanno spento l'incendio mentre altri operatori coadiuvavano l'evacuazione delle stanze dell'ala dell'albergo in vasa dai fumi. Gli ospiti in gran parte anziani sono stati portati all'esterno e assistiti e controllati dal personale del suo M118. Per nessun ospite è stato necessario il ricovero all'ospedale. 300 mila euro per manutenzioni straordinarie del verde, l'Aggiunta ha approvato quindi due delibere da 150 mila euro ognuna che riguardano il verde intorno al parco delle mura e quello delle rotonde e delle aiuole cittadine. Si tratta di interventi da realizzare in questa stagione e soprattutto l'amministrazione è impegnata a valorizzare sotto vari aspetti storici, culturali, turistici ma anche per quello che riguarda il verde. L'obiettivo è quello di ripulire e liberare ampi tratti delle mura e le aree circostanti e quindi riqualificarle. La Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella ha concluso una complessa attività in materia di spesa pubblica riguardante appalti affidati ad una multi-utility con sede nell'Alta Padovana, la cosiddetta in-house, partecipata da 75 comuni nelle province di Padova, Treviso e Vicenza. L'operazione Gold Trash condotta su delega della Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha fatto emergere reiterate regolarità sulle procedure adottate dalla sopra citata multi-utility grazie alle quali sarebbe stata girata la naturale scadenza di alcuni contratti di appalto andando in palese contrasto con la specifica normativa e con le direttive di merito dell'autorità nazionale anticorruzione grazie alla cosiddetta proroga tecnica, strumento previsto dalla normativa di settore con l'unico fine però di consentire per motivi straordinari la mela prosecuzione del rapporto contrattuale in corso. Il danno irariale è determinato in 1.523.291 euro e derivato dal maggior prezzo pagato dalla partecipata pubblica in sede di proroga tecnica. Nel pomeriggio di oggi presso la caserma Martini di Verona, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale tra il colonnello Pietro Bianchi e il colonnello Carlo Ragusa. Alla cerimonia, oltre alle principali autorità civili e militari di Verona, hanno presenziato anche il comandante interregionale dell'Italia nord-orientale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Bruno Buratti. I militari del comando della Guardia di Finanza di Bologna, su disposizione del GIP del Tribunale di Bologna, Francesca Zavaglia, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore bolognese classe 1956, reo di aver posto in essere una truffa finalizzata a percepire in maniera indebita contributi pubblici destinati a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Scandellari e condotta dai finanzieri, trae origine dall'approfondimento di alcune segnalazioni per operazioni sospette pervenute alle fiamme gialle dal circuito bancario, da cui emergeva come l'imprenditore, nonostante fosse stato inabilitato all'esercizio di qualsiasi attività commerciale a seguito delle condanne riportate nell'ambito del noto procedimento penale relativo al fallimento di Uniland, stesse continuando ad amministrare società per conseguire illeciti guadagni, servendosi della collaborazione del coniuge e di una fidata professionista del posto, anch'esse indagate. I controlli sulle strade padovane sono sempre più intensi come dimostrano i pattugliamenti messi in atto anche il 2 di ottobre. La tempestività dei militari di Avano Terme ha permesso infatti di fermare un'automobilista che è completamente ubriaco, ha seminato il panico per Rovolon ai piedi dei colli euganei. Quando l'uomo alla guida è sceso è stato chiaro il motivo della guida spericolata. Era talmente ubriaco da reggersi a malapena in piedi e non riusciva nemmeno ad esprimersi in modo ragionevole. L'alcotest ha dato la conferma rilevando un tasso di 3,52 grammi di alcol per litro in sangue. Ebbene, ben sette volte oltre il limite consentito dalla legge. Il rumeno, 42 anni, che vive a Padova, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, gli è stata ritirata la patente e dovrà rispondere anche in sede penale, visto che il suo stato di uberachezza era molto alto. Sequestrato anche il furgone, che è risultato di sua proprietà, e verrà confiscato. Sempre più in alto, Padova non solo mantiene il triste primato regionale di contagio di West Nile, ma vede anche salire in maniera repentina i casi certi che nel giro di una settimana passano da 73 a 80 casi. Dei 211 certificati in Veneto, 14 in più rispetto alla settimana scorsa, sono 59 quelli evoluti nella forma neuroinvasiva, con 15 decessi, quasi totalmente avvenuti in persone anziane o con gravi patologie. Veniamo a Tecnobar e Food, ci siamo ormai, è stata presentata proprio oggi alla Camera di Commercio di Padova l'edizione 2018 di Tecnobar e Food, il salone biennale, professionale per alberghi e ristoranti, bar, attrezzature, alberghiere, prodotti alimentari e tecnologie. L'appuntamento è per i giorni 6-9 ottobre, naturalmente all'interno dei padiglioni di Padova Fiere. Il taglio del nastro avverrà sabato alle ore 11 con la presenza di Massimiliano Alaimo, il più giovane chef della storia, ad aver ottenuto una valutazione di tre stelle alla guida Michelin. 400 gli espositori, 25 mila metri quadri di superficie espositiva. Quest'anno la presenza anche, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio attraverso Promex, di 50 buyers internazionali. Vediamo. La Camera di Commercio è la prima volta che collabora con una fiera rinnovata, una fiera che sempre di più cerca il volto internazionale. Sì, è la prima volta, peraltro fatta proprio al rientro dalle ferie, come abbiamo avuto modo di dire prima, ma è una prima volta che era nell'aria. Questa idea di fare squadra e di cercare di aiutare per internazionalizzare l'evento fioristico Tecnobar Food è stata una scelta strategica che come Camera di Commercio e come Promex abbiamo sempre ritenuto opportuno perpetuare. Il fatto di aver trovato una piena disponibilità da parte degli organizzatori ma soprattutto da parte di tutti gli espositori. Ecco, quello che è stato l'elemento vincente e la novità positiva in un mondo divisorio, invece in questo caso qua, è proprio la squadra che vince e la squadra ha reso internazionale questa fiera. Una fiera che vedrà la presenza di oltre 50 operatori stranieri. 50 operatori stranieri che avranno quale obiettivo? Allora, l'obiettivo e la selezione che noi abbiamo fatto è quello di comprare e di acquisire tecnologie e food italiano. Quindi tutti i profili degli operatori rispondono a questa esigenza nostra, li abbiamo invitati, vengono da Mezzomondo e avranno l'opportunità di toccare con mano le nostre eccellenze, siano esse tecniche che del food. Promex e Fiera di Padova? Beh, diciamo che è un primo passo, probabilmente come in tutte le cose ci vuole un periodo di finanziamento, probabilmente poi potrà sforzare un matrimonio. Dottor Olivi, Tacno Bar e Food quest'anno con un grande connubio con Promex si presenta al pubblico internazionale. Sì, in realtà quello che noi vogliamo presentare al pubblico internazionale per avvicinare gli operatori internazionali è un'eccellenza del territorio fatto da qualità del cibo, da una produzione di attrezzatori alberghiere che è leader al mondo ed anche di un'organizzazione che anche sul piano promozionale potrebbe oggi consentire ai nostri operatori di fare un po' meno fatica per esportare i loro prodotti all'estero. Noi crediamo che le manifestazioni devono avere soprattutto un contenuto formativo, devono partire dall'offerta locale, soprattutto quando questa sia eccellente e consentire all'offerta locale di avere delle opportunità per invadere tutti i mercati nazionali e limitrafi e questo soprattutto indicando e facendo vedere e facendo toccare la qualità della loro produzione. Proprio sono le parole che ha espresso anche il presidente di Promex, nel senso in qualche maniera questo è un primo fidanzamento e da qui in avanti potrebbe essere veramente la grande scommessa. Io credo che sia necessaria, qualcuno oggi ha detto che da soli non si fa niente, le manifestazioni fieristiche, io mi limito a parlare di manifestazioni fieristiche, ma direi tutto, tutto diciamo l'economia cittadina deve partire da un'azione di marketing territoriale coesa, uso l'espressione marketing territoriale a ragione veduta perché come quando un'impresa promuove i propri prodotti facendo vedere le qualità e a volte nascondendo i difetti, ecco forse dovremmo cominciare anche noi a far vedere soprattutto la qualità, a dichiarare i difetti ma non far vedere i difetti a volte puramente e semplicemente perché così è conveniente rispetto magari all'idea di un nostro contraddittore. Come diceva qualcuno che guarda gli altri arriva secondo, noi abbiamo un disegno chiaro, un progetto industriale chiaro, abbiamo delle difficoltà chiare, dei profili critici chiari, ecco se riusciamo a superarlo, soprattutto con la coesione di tutti gli interlocutori, con onestà intellettuale e con capacità di analisi, noi sicuramente raggiungeremo quegli obiettivi che ci siamo prefissati. Tecno Bar & Food dopo due anni ritorna di nuovo a farsi vedere. A farsi vedere alla grande perché il Tecno Bar & Food che abbiamo rispolverato come termine quindi moltissima attenzione al bar, moltissima attenzione alle eccellenze che si declinano a due livelli, le grandissime attrezzature alberghiere presenti in maniera importante da noi e che avranno un'arena fantastica con i cinque campionati di finger food internazionali e la parte invece del food, dove nel food avremo come focus e novità 2018 le terre del bio, oltre 80 produttori da tutta Italia con eccellenze gastronomiche che verranno conosciute, apprezzate e cucinate dai giovani chef futuri dell'istituto alberghiero di Abano. Molta formazione ma anche molto design e molto show cooking, tutto quello che riguarda anche la bontà dei prodotti in chiave di lavorazione dal vivo verrà anche declinata non solo a Tecno Bar & Food dal 6 al 9 di ottobre, ma sabato 6 inizierà anche Casa Su Misura che sarà assolutamente collegata anche dal punto di vista dei flussi con Tecno Bar & Food e che avrà proprio in sabato mattina un'apertura dei lavori importantissimo, visto che si parla di eccellenza, inaugureremo Tecno Bar & Food e quindi anche Casa Su Misura con Massimiliano Laimo, tristellato chef più giovane d'Italia che aprirà proprio la manifestazione visitandola nei suoi padiglioni conoscendo oltre 400 espositori e soprattutto in un'edizione in cui la parte internazionale sarà il cuore perché 50 buyer che visiteranno la manifestazione e provengono un po' da tutto il mondo, saranno dei grandi partner della ristorazione, dei guru anche di questo settore che animeranno la città per 4 giorni Con involgimento di tutti i settori importanti dal food al turismo e anche quello che può essere il sistema Padova Sì, proprio il sistema Padova e grazie alla forte collaborazione quest'anno con Camera di Commercio e Promex, questa operazione di internazionalizzazione che vede questi 50 buyer assaggiare, conoscere, degustare e speriamo quindi anche comprare i prodotti delle nostre aziende che sono espressione di un distretto produttivo di attrezzature alberriero da una parte di prodotti agroalimentari di altissima qualità, fanno proprio sinergia di economia territoriale per un marketing turistico che vede anche le terme, i protagonisti e quindi un Tecno Bar & Food come biennale della ristorazione ad altissimo livello Molti convegni, molti lavori durante questa fiera Sì, i numeri ci danno ad oggi in aggiornamento più di 120 appuntamenti questi appuntamenti dislocati in parte nel campionato Finger Food, in parte nella zona show cooking in terra del bio con l'istituto Pietro D'Abbano, istituto alberriero e soprattutto nell'arena DF, Arena Education, fatta in collaborazione con l'Accademia DF delle Professioni, ci porteranno a parlare anche una platea molto interessante quindi agli chef del futuro, gli chef del futuro saranno accompagnati assolutamente dagli operatori, ad oggi possiamo dire che più di 20.000 persone si sono già accreditate a visitare Tecno Bar & Food ai quali regaleremo anche la visita a casa su misura e questo è un plus padovano che nessuna fiera in Italia può vantare. Tecno Bar & Food quindi si presenta come uno degli appuntamenti più importanti fieristici non soltanto del nord-est ma del nord Italia. Sì, la chiave di lettura è proprio nord Italia e soprattutto anche una chiave di sinergia territoriale dove questa forte collaborazione con tutto il mondo padovano, si parlava prima di sistema padova, vede esplosa proprio questa presenza non solo a livello espositivo ma soprattutto a livello cognitivo e di prodotto, quindi le degustazioni potranno mettere in evidenza i nostri collegani, le degustazioni potranno esaltare il delta del Po, le degustazioni potranno esaltare la nostra Venezia che è un richiamo, è un appeal internazionale, ecco perché i 50 buyer esteri, ecco perché insomma ci fa onore della presenza in apertura dei lavori di uno chef come Massimiliano Laimo. Domani sera torna alle 21.05 la trasmissione di politica attualità Il Tarlo condotta anche quest'anno dal collega Alberto Salmaso, temi di attualità e politica affrontati dalla nostra redazione con puntualità e corretta informazione, mentre stasera non perdetevi l'appuntamento con Stammi Bene, la trasmissione di Sanità condotta in studio dalla collega Nicoletta Rizzi sempre alle ore 21.05. Buona visione. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, grazie per averci seguito e una buona visione dei nostri programmi.